In questo video vi parlerò dell'attività fisica e la fibrillazione atriale. Questo video fa parte di una serie che potete trovare sui miei profili social Facebook, Instagram e YouTube dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. Ricapitolando, in questo video abbiamo visto come l'attività fisica aerobica di moderata intensità fatta regolarmente è raccomandata nei casi di fibrillazione atriale perché riduce le recidive, riduce i sintomi e migliora la qualità della vita. Abbiamo visto la definizione di attività fisica di moderata intensità e abbiamo visto quali sono gli sport più raccomandati. Inoltre abbiamo visto che l'attività fisica deve essere fatta per almeno 210 minuti a settimana, ossia 30 minuti al giorno oppure 70 minuti se fatti tre volte a settimana.